Da dove arriva, ma soprattutto come viene prodotta l'energia che consumiamo quotidianamente? Sono solo alcune delle domande che gli studenti delle scuole medie e superiori hanno posto agli addetti ai lavori in occasione di un viaggio studio alla scoperta delle centrali di teleriscaldamento, idroelettriche e casa clima. L'iniziativa, che prende il nome di EnerTour for Schools, è stata resa possibile grazie all'impegno di SEL, Fondazione Cassa di Risparmio e il Tiss Innovation Park. L'obiettivo è quello di approfondire il tema legato all'energia coinvolgendo i giovani. È importante per avvicinare i ragazzi delle scuole alla problematica della produzione energetica rinnovabile e dell'energia o dell'efficienza energetica e poi perché dà molte prospettive di lavoro per i ragazzi giovani di cui abbiamo evidentemente bisogno ed è bene che comincino di orientarsi verso un...